Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Chiara Ferragni e Fedez, anche conosciuti come De Ferragnez, nome della serie TV Prime Video dedicata a loro, con quell'annuncio hanno fatto chiacchierare ancora una volta i follower Ecco di cosa si tratta.Sono super conosciuti, stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez, i quali da anni, intrattengono i loro follower con moltissimi dettagli della loro vita e della loro famiglia Diciamo che hanno reso partecipi i fan quasi su tutto, dal loro incontro, alla proposta di matrimonio, alla nascita dei figli e così via Se pensiamo poi che Chiara è praticamente l'influencer originale, quella che ha dato il via a questa professione in Italia, abbiamo praticamente già detto tutto Le cose adesso sono in stallo per loro, con tutto quello che è successo e nel mentre, nell'attesa di capire come si evolverà tutta questa storia, alquanto complessa, al vaglio di chi di dovere, i Ferragnez, hanno pubblicato un annuncio che ha lasciato tutti quanti senza parole Ecco di cosa si tratta.L'annuncio dei Ferragnez.Dopo il Pandoro Gate è successo veramente di tutto nella vita dell'influencer, Chiara Ferragni e di tutta la sua famiglia Tutta questa storia è ancora al vaglio degli inquirenti, a prescindere dalla multa che l'influencer ha ricevuto per il suo errore di comunicazione, volontario o meno Dopo il video di scuse, i follower si sono divisi, ci sono quelli che continuano a seguirla, quelli che la insultano e quelli che hanno tolto il like e hanno cambiato influencer da seguire Ad oggi, sono uscite molte parole su questa storia, si vocifera anche, come abbiamo letto sull'articolo pubblicato dalla Gazzetta, che secondo le indiscrezioni rilasciate da Vanity Fair, la Ferragni è stata avvistata da un avvocato divorzista Non si sa come finirà questa storia, non ci resta che attendere ulteriori sviluppi e notizie certe, date dai protagonisti della vicenda Come se non bastasse tutta questa storia a far parlare di Chiara Ferragni e Fedez, adesso l'opinione pubblica ha rivolto l'attenzione su quell'annuncio pubblicato in una delle agenzie di affitti più famose di sempre, i quali trattano case di lusso Infatti, la prima casa storica dei Ferragni, quella che ha racchiuso i ricordi più importanti della famiglia fino ad oggi, dalla loro convivenza, al matrimonio, la nascita dei figli, la morte di Mati, l'arrivo di Paloma e così via, è stata messa in affitto ad una cifra esorbitante In realtà, ci sono case che costano ancora di più al mese, è ovvio che la loro abitazione non è per tutti Se ci state facendo un pensierino e potete permettervelo, sappiate che potreste essere voi fortunati ad affittare caso a Ferragni e Z, alla modica cifra di 35.000 euro al mese Chiunque riuscirà ad entrarci, beneficerà di tutta una serie di comfort molto gratificanti, per non parlare dell'elevato spazio presente in questo attico di lusso a Milano Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video